Ho apprezzato molto l'iniziativa dell'Università di Verona di tenere qui la conferenza mondiale sugli studi nicciani sia per una passione personale sulla filosofia nicciana, un po' per dare risalto e ospitalità alla comunità internazionale che viene qui per degli studi così importanti. Nietzsche in particolare è il filosofo dell'avvenire, colui che più di tutti ha superato gli schemi spirituali, religiosi, filosofici del passato quindi è forse il filosofo perfetto per interpretare il concetto di contemporaneità e di divenire e penso che un'università italiana che diventi punto di riferimento di una conferenza internazionale su questi temi in particolare legato all'antropocene sia assolutamente importante e rilevante.